buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando utilizzerò tre mazzi di carte e suddividerò la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo voi sceglierete un gruppo di appartenenza o più gruppi seguite il vostro cuore e quella sarà la lettura per voi utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte di Maria visto che l'energia di Maria è molto potente in questo periodo appena passata l'immacolata ma l'energia di Maria è presente ok poi abbiamo le carte delle fatte ok e poi abbiamo le carte degli unicorni naturalmente sotto guida e assistenza dell'arcangelo Michele faremo una preghiera di protezione psichica per chiedere a Dio agli angeli all'arcangelo Michele di proteggerci di assisterci e di darci messaggi più giusti per noi in questo momento specifico della nostra vita iniziamo invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo Michele invoco il maestro Gesù Maria Regina Celeste coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio arcangelo Michele ti chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni ti chiedo con amore di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabili all'oscurità affinché possa entrare solo luce amore pace e guarigione sintonizzaci nella frequenza dell'amore della gioia della bellezza dell'abbondanza chiedo guida ed assistenza per me e tutte le persone coinvolte affinché attraverso questa lettura angelica possano arrivare i messaggi più giusti per il massimo bene di tutte le persone coinvolte per il massimo bene supremo grazie caro dio grazie arcangelo Michele grazie al maestro Gesù grazie coscienza micaelica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok iniziamo a mischiare le carte vediamo cosa Maria ha da dirci avete scelto quale gruppo di appartenenza ok ora vediamo gruppo a grazia aspettate ecco grazia vi piace quest'angelo meraviglioso che c'è di me l'angelo l'angelo custode anche questa è una delle carte che presto usciranno del mazzo di dell'arcangelo Michele la via maestra dell'amore ok gruppo b abbiamo addirittura Gesù vediamo il gruppo c cosa Maria ha da dirci in nome dell'amore gruppo c momento presente lo vedete allora vediamo le fatte mannaggia devo aver preso un po di freddo vediamo un po gruppo a eccola qui nuova casa questa è interessante la volta che mi era uscita questa carta mi trovavo a Londra e non stavo bene nel lavoro che facevo come ragazza alla pari mi era uscita questa carta e dopo neanche dieci giorni mi sono trasferita e ho trovato un nuovo lavoro gruppo b i tuoi sogni sono assolutamente eh si realizzeranno sicuramente va bene questa è una carta che è saltata fuori eh fai della ricerca fai della ricerca vediamo un po cosa vuole dire nello specifico prima andiamo a trovare le carte degli unicorni ecco qui è uscita la carta santuario ok vediamo il gruppo b sono girate due carte amicizia e intuizione bellissime le carte del gruppo b eh tutte sono belle però vediamo un po il gruppo c cari micorni che messaggio avete per il gruppo c la dea la divinità femminile c'è un'energia femminile quella di maria ma in generale il divino femminile dentro di noi ora iniziamo la nostra lettura angelica quindi grazia vivi nella grazia vivi nella pace nell'armonia hai bisogno di armonizzare il tuo spazio personale fai delle preghiere di purificazione energetica perché hai bisogno veramente di ritrovare il tuo equilibrio va bene ok assolutamente leggi delle poesie leggi dei libri diciamo che ti portano in uno stato di pace hai bisogno proprio di armonizzare l'energia dentro di te e intorno a te quindi è anche un invito a cambiare casa quindi molto probabilmente o hai già cambiato casa o cambierai casa perché hai bisogno del tuo spazio hai bisogno di trovare la tua armonia la tua pace e nel luogo in cui ti trovi a qualche livello non riesci a fare questo per il caos forse perché troppo piccolo il luogo in cui vivi forse perché vivi insieme ad altre persone forse perché devi trasferirti devi andare in una nuova località ok quindi sicuramente il trasferimento in una nuova creare anche un tuo spazio trovare un tuo studio per alcuni può voler dire anche aprire un centro olistico hai bisogno del tuo spazio per la tua creatività per meditare per connetterti col divino crea il tuo spazio sacro quindi questa per queste persone c'è un invito proprio al ritornare al centro più meditazione più preghiera più centratura un luogo armonico uno spazio armonico creare un santuario un luogo di pace di amore di armonia dove puoi ricevere chiaramente la guida divina dei tuoi angeli delle tue guide dei tuoi aiutanti spirituali per ritrovare te stesso per ritrovare te stessa e per poter vivere nella pace nell'amore nell'armonia ok passiamo al gruppo di gesù allora gesù è molto presente nel tuo campo energetico lo stai invocando lo stai cercando ma a prescindere da tutto lui è con te lui ti sta guidando in questo momento di transizione in questo momento di elevazione spirituale la figura di gesù è la figura che rappresenta l'amore il perdono la compassione ok voglio dire anime meravigliose presto sarà natale però noi sappiamo benissimo la nascita di gesù se non sbaglio è antecedente no al 25 di dicembre però a prescindere da questo la data una cosa relativa la figura di gesù in questo momento è molto presente nella tua vita va bene ti sta invitando a chiedere il suo aiuto la sua guida la sua la sua assistenza in questo momento particolare della tua vita ok assolutamente stai sereno stai serena le tue preghiere sono state ascoltate saranno ascoltate si sta per manifestare un tuo grande sogno la realizzazione di un progetto ok quello che hai chiesto sta arrivando a te un'energia molto molto potente potrebbero essere anche la nascita di nuove amicizie partnership abbi fiducia in queste relazioni nuove o vecchie che si stanno riconsolidando si stanno diciamo c'è un come dire c'è un veramente c'è una grande energia di grande fiducia nel confronto di queste persone perché queste persone è possibile ci sia anche la nascita di progetti in comune progetti lavorativi un viaggio un trasloco anche andare a vivere insieme potrebbero essere tante le come dire le sfumature però quello che dice l'arcangelo michele assolutamente queste persone sono persone valide di cui ti puoi fidare fidati della tua intuizione perché la tua intuizione è il tuo dono che Dio ti ha dato ti ha donato la tua capacità di ricevere i messaggi dal divino le intuizioni sono quelle quelle informazioni che arrivano molto velocemente ma che hanno un senso di verità grandissimo in quel momento voi siete uno con Dio e diventate chiaro conoscenti ossia conoscete la verità sapete ciò che è vero ecco l'intuizione trasmette un senso di verità non seguirla diminuisce le vostre capacità intuitive non seguirla vuol dire andare contro Dio ossia contro voi stessi e contro la vostra vera natura di amore ascoltate ciò che è Dio gli angeli e l'amore divino e Gesù hanno da dirvi e vi stanno dicendo vi stanno guidando quindi seguite la vostra intuizione ok bene passiamo al gruppo C gruppo C anima infinita sei invitato invitata rimanere centrato e centrata nel momento presente hai dei grandi progetti futuri il passato non ti serve più ormai è andato via stai creando una nuova realtà col tuo lavoro di manifestazione molti di voi stanno lavorando con affermazioni positive con preghiere di manifestazione ebbene benissimo lavora con la gratitudine lavora con la gioia lavora con il tapping lavora con le affermazioni ma lascia anche andare lascia che sia vivi il presente e si gratto si gratta per ciò che hai ora perché quello che hai ora è tanto è tanto pensa rispetto al passato tutti i traguardi che hai raggiunto ebbene questi traguardi sono da premiare datti una patta sulla spalla godi la vita nel presente continua a lavorare per le tue manifestazioni future vedrai che riuscirai assolutamente a realizzare i tuoi progetti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi c'è una situazione un attimino che ti sta non dico preoccupando però che ti sta impegnando in quanto devi trovare la risoluzione ad un ad una sfida ad un ostacolo che non dico problema semplicemente una sfida della vita che possa essere un discorso di benessere di salute che possa essere un miglioramento nella tua vita lavorativa nella tua carriera nei tuoi progetti ecco fai della ricerca perché le risposte sono presenti esistono devi solo documentarti e vedrai che troverai la risposta le risposte che stai cercando ok assolutamente abbi fiducia anche tu nella tua intuizione in quanto il divino femminile rappresenta il ricevere anche la ricezione dei messaggi legata al potere della dea del femminile divino che è il tuo emisfero destro ok quello della ricettività delle informazioni quindi abbi rispetto per quella parte per quella dea che vuole emergere dentro di te sia che tu sia un uomo sia che tu sia una donna il divino femminile in te e ti sta chiamando va bene la razionalità va bene l'azione la ricerca ma anche la ricezione l'ascolto la presenza l'amore l'amore che in te tu vedrai che riuscirai a risolvere questa situazione che ti sta un po' preoccupando lascia andare i pensieri lascia andare la preoccupazione ascolta la voce dell'anima che ti sta parlando ok bene per questa settimana abbiamo finito la lettura l'ultimo messaggio finale da questo meraviglioso libro chiedo a dio agli angeli all'arcangelo michele al maestro gesù a maria regina celeste di portarci i messaggi per questa settimana i messaggi più giusti per il maggior numero di persone possibili prova con la diplomazia non sempre il caso di spiattellare tutto ciò che ci passa per la mente alle persone che ci circondano molto spesso al contrario è meglio usare tato finezza diplomazia quasi sempre poi è meglio far ricorso agli infiniti poteri della gentilezza ok bene questo è un messaggio molto saggio io vi auguro una settimana strettitosa tanto amore tanta luce tanta benedizione seguite la vostra intuizione ascoltate assolutamente i messaggi che gli angeli vi stanno donando ascoltate la vostra anima se c'è uno spazio che vi sta stretto cambiate strada cambiate via perché questa è la vita divina che vi sta parlando io vi saluto vi ringrazio e ci sentiamo la settimana prossima un bacione a presto ciao